Andiamo avanti, ne abbiamo parlato tanto del caldo in questi giorni, cominciamo a parlare di qualcosa che potrebbe cambiare, almeno così si spera, così sperano in molti, così spera la natura soprattutto perché c'è bisogno di acqua e di piogge. E allora andiamo a chiedere se davvero sta arrivando questa perturbazione, insomma che fine ha fatto il mitico anticiclone delle Azzorri, Giovanni De Palma, buongiorno a te. Buongiorno Marina, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Dici tutto, allora è vero che arriva un po' di acqua, un po' di respiro o no? Assolutamente sì, tra poche ore masse d'aria fresca e romperanno sulle nostre regioni adriatiche, spazzeranno via l'ondata di caldo che da settimane ormai grazie all'anticiclone africano continuava a persistere sulle nostre regioni centrali. Prossime ore con tempi in peggioramento, temporali che si manifesteranno già nel pomeriggio, già si sono in atto temporali anche sul nostro capoluogo, in sviluppo sulle zone interne e poi tra stanotte e domattina impulso fresco che provocherà temporali che dalle vicine marche si estenderanno sulla nostra regione. Vediamo quello che accadrà, iniziamo dalle immagini dal satellite, vedete è cambiata la situazione meteorologica, l'aria fresca che sta scavalcando l'arco alpino ma che sta già producendo la formazione di temporali, provocando temporali sulle zone appenniniche in estensione verso il settore adriatico. Tra stanotte e domattina l'aria fresca si riverserà anche sulle nostre regioni, portando temporali accompagnati da forti raffiche di vento. Ecco la carta del tempo, ecco l'anticiclone delle Azzorre, si ritira l'anticiclone africano, si espande l'anticiclone delle Azzorre che porterà la discesa di aria fresca, che è quindi anche un refrigerio, quindi un clima decisamente più gradevole nel corso dei prossimi giorni. Ma occhio ai temporali di forte intensità, questo è il quadro previsto per le prossime ore. Temporali già in atto sulle zone appenniniche, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna e sull'Alto Molise, in estensione localmente verso il Pescarese, l'entroterra Pescarese e poi anche verso il Chietino e poi verso il Molise, anche sulle lungo le aree costiere localmente. Poi nel corso della serata, nottata nelle prime ore della mattinata di domani, ma tra stasera e le prime ore di domattina, temporali, forti temporali in discesa dalle vicine Marche, accompagnati da forti raffichi di vento, in estensione dal Terramano, poi verso il Pescarese, il Chietino e poi anche verso il Molise. Forti raffichi di vento associate al transito di temporali e potranno risultare di forte intensità, e poi temperature in sensibile diminuzione con motondoso indeciso aumento. Infatti a proposito dei venti, ecco i venti previsti tra stanotte e le prime ore della mattinata di domani, raffiche di vento anche superiore ai 40 nodi localmente lungo le coste marchigiane e abruzzese e poi localmente anche sulle coste molisane, con motondosi in aumento e temperature in generale sensibile diminuzione. Ce lo dimostra questa mappa prevista nel corso della serata di venerdì, calo termico pronunciato, si abbasseranno le temperature e scenderanno al di sotto delle medie stagionali, anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie stagionali, dopo essere rimaste per tantissimo tempo abbondantemente al di sopra delle medie stagionali. Caldo che verrà spazzato via a partire da stasera. È tutto Marina, ti restituisco la linea. Tutto perché ti voglio fare una domanda Giovanni, prima di lasciare. Dobbiamo temere anche la grandine, che è una di quelle cose che di solito poi in queste occasioni si temono di più. Diciamo che la grandine non è prevedibile con largo anticipo, però possiamo ipotizzare lo sviluppo di temporali, di forte intensità, data l'elevata energia in gioco, che potrebbero provocare grandinate. Dove? Possibile sulle zone montuose e sulle zone pedecollinari che si affacciano sul Bersanto Adriatico, nelle prossime ore, nel corso delle prossime ore. E poi, se vediamo sulla mappa, lo possiamo vedere sulla mappa, nelle prossime ore il rischio di grandine sulle zone pedecollinari che si affacciano sul Bersanto Adriatico, sia del Pescarese che del Chietino, nel corso delle prossime ore. E poi in nottata invece giungeranno forti venti dai quadranti settentrionali e quindi raffiche di vento temporali anche intensi, ma ovviamente poi con il raffreddamento passerà anche il rischio di grandinate sulle nostre regioni. Tutti vorrebbero sapere quanto durerà e quando tornerà il sole, ma io so che Giovanni De Palma, che è persona seria, non va troppo oltre con le previsioni perché poi diventano vaticini e non ci piace. Giusto? No, però possiamo dire che comunque il tempo migliorerà già da venerdì sera, ma comunque il clima sarà molto molto più gradevole rispetto a quello che abbiamo vissuto in queste ultime settimane. E lo sarà almeno fino ai primi giorni della prossima settimana.